8.000 di ante! Ante! CUR! E' più duro! E ciao a tutti ragazzi! Quest'oggi, come potete vedere, ho tirato una carcagnata al microfono! E ci troviamo su Oddworld Apes Odyssey! Nello scorso episodio, ragazzi, abbiamo salvato tutti i Moodlecon che si trovavano di là... Aspetta, no, se io metto la webcam... Di là... Ecco, tutti i Moodlecon che abbiamo salvato di là! Da quel lato! Da lì! Da lì, da lì, sì! Tutti i Moodlecon che abbiamo salvato appunto da là! Oh! Vi abbiamo salvato! Per vi abbiamo io e Dave! Stronci! Quindi, dopo averli salvati, possiamo andare di là! Vai di là, sì! Ok, andiamo a salvare tutti i Moodlecon rimasti! Ok! Non c'è nessuno! Seguimi! Ok! Andiamo a salvare! Vieni qui, stronzo! Ti salvo io! Aspetta un attimo, eh! Dai, vieni, è facile, dai! Ok, visto? Vai, 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 vai! Per sicurezza tu dammi il potere qua a Gesù Cristico! Ok, perfetto! Ok, namose, 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 namose! Che bello è rotolare così, come se non ci fosse un domani! Ok, non c'è nessuno! Ciao! Ok, non c'è nessuno! Ok! Ciao! Ciao! Seguimi! Ok! Per sicurezza! Vieni qua! Ciao! 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 Fanculo! Ok! Porca troia, devo morire di nuovo, porca! Ciocia! Troppo lento! Ah! Fanculo! Ciociociociociocio! E ripetiamo tutto! Fa caga! Amoli, andiamo a salvare il moda con... Ciao! Seguimi! Ok! Non morire! Ok! Ho detto, oddio, non ce la fa! Quindi! Ok, andiamo! Ciao! Ciao! Seguimi! Ok! Tutta la strada è indietro! Andiamola a salvare! Dai, vieni qua! Dai, corri! Corri! Muovi quei cazzo di piedi! Ti infilo un palo nel culo e ti faccio vedere come voli! No, corri! Dai, veloce! Ok, grazie! Andamoli, vattene via! Vattene via! Mi stai... Vai via! Vai! Vai! Grazie mille! Abbassati! Oh, thanks! Ok! Possiamo andare nei veri mattatoi... Hernia! Andiamo avanti, ragazzi! Abbiamo finito tutta la parte iniziale che già conoscevamo! Rimangono soltanto... Ok! I veri! Mattatoria, ernia! Zulac! Uno! Sì, sto tirando la leva con un cretino, lo so! E andiamo! Zulac! Uno! Non perdiamoci in chiacchiere! Eh? Namo! Ehm... Ok! fantastico siamo qui ragazzi al zoolag 2 da qui in poi non ricordo nulla ok usa uno sling per farti strada dopo aver passato la porta di sicurezza ok comunque abbiamo ancora una bomba come potete vedere siamo l'elenco mattato ieri impiegati assegnati in 99 noi siamo al secondo zoolag 1 lo abbiamo fatto suppongo poi da lì c'è lo zoolag 3 lo zoolag 4 ok perfetto ci sono quattro zoolag che sarebbero zoolag 2 impiegati assegnati 9 ok ah guardate oh fichissimo ci dicono pure dove sono 3 4 5 6 7 8 9 ok 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 dobbiamo salvarli tutti io direi di salire qua e impossessarci dello sling vediamo ed esploriamo vediamo di qua dove si va da nessuna parte oh yes ciao ciao ok quindi questo televisore non è altro che la stessa cosa che poi mudo con tu scendi così che scendi però sicuramente ora vuoi vedere che mi serviva per salire sopra mi metto a piangere se mi serviva per andare sopra seriamente mi metto a piangere e ora qui c'è il finimonde mi serviva lo slig ok e valsi 71 impiegati 28 3 zula sentiamo nel primo vi salverò tutti i ragazzi li salverò tutti cosa sta lavando va bene che leggiamo l'elenco vabbè la stessa discorso di prima che ci troviamo la occhio che ce n'è uno per ogni coso ok andiamo di qua vediamo poi mi serve lo slig che ciao ciao che non mi caga ne ha ne devo salvare tre fantastico per il potere sky school qua allora matti morisce il pisello ti deve morire così che ci siamo chiamiamo questo qua ciao 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 seguimi ok però come vedete là non si vedono i piedi dello slig quello la ti fotte ok stavolta qua ti prendo è una volta me può fottere una volta me può fottere mica me può fottere tutta innata ciao 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 ok non ti caga più sappiatelo ok qui non c'è nessuno due nessuno ok salviamone 3 è un piccolo un'altra cosa vi devo dire ragazzi non è che lì se lì c'è sito 3 e ne salvate due scende a 1 non e dovete salvare 3 contemporaneamente quindi salvatore ok ok siete liberi però forse eravamo io se cantavo sopra ecco state vedendo ho fatto una puttanata ciao ciao seguimi ok ecco appunto quello che volevo dire mi raccomando eh state attenti perché E dai seguimi Mi sa che ho fatto una puttanata Vabbè vediamo se riusciamo ad andare avanti lo stesso Cosa che non credo proprio Non credo proprio Sala impiegati Cos'è sta roba Come va acqua avanti Non puoi andare avanti Qua è improponibile andare avanti qua Caccapupù devo rifare tutto Porca troia perché quel coglione là non è sceso Andiamo a prendere il terzo Ciao Guarda che non scende Ma lei è proprio stupido Ok 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 Adesso dovremmo farcela Oh yes Perché stai prendendo Ok 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 No pensavo che Ok non lo so che stavo pensando Ma va bene ok 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 Allora sale impiegati Ok Che cazzo stai facendo Vai Ok Tira la leva Yes Bellissimo Che cazzo Eh sì Vabbè Eh tua sorella Bloccati eh Mamma mia Me la sono fatta a culo Me la sono fatta Aiuto Sì 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 Ciao 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 Guarda posso andare di qua No E mo Devo tornare indietro forse I don't know Eh sì devo tornare indietro sicuramente Per forza devo tornare indietro Ok sì devo tornare indietro Ok Torniamo indietro No problem Andiamo Su posso andare No Di là posso andare Vediamo Sì che ci posso andare di là Però muoio come un pirla Andatevene andatevene veloci Perché prima che vi faccio tre video contro Perché devo fare video contro i mutui Aspetti la posso andare così curiosità Nope Ok Ma giusto così per tirare craniate allo spartitraffico Allora scendiamo di giù Scendiamo di giù Ok giù io di qua non posso andare Con la leva Non serve un cacchio Di qua non c'è nulla Di qua non c'è nulla Vediamo di qua Nulla Va bene perfetto Non vedo palline cadere Ok E abbiamo finito il primo Zulag suppongo Ora si chiude la porta o rimane aperta? Ah sì si chiude Ok Dobbiamo finire la seconda porta Oh yes Ah sì andiamo andiamo Dai 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 Andiamo Rimangono 23 impiegati E lì c'è uno slog E sti cazzi che 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 Ne blocca ti Aiuto Prendiamo il controllo qui del nostro carissimo amico Aiuto Ciao Qui bello Andiamo Fantastico Qui bello Qui bello Vieni qua Andiamo cari di merda Vieni Qui bello Andiamo Ok non c'è un cazzo Puoi morire Perfetto Perché gli slug Gli slog mi stanno sul culo Perfetto Ok Ok di qui non c'è nulla Ah ok Di qua vediamo che cosa c'è Forse c'è un segreto qui Nope Non c'è nulla Ok vabbè l'elenco sicuramente Quella roba di prima A me non interessa Eh Ho già una bomba Ok Uno Due Tre No aspetta prima che la tiro No 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 Devo prendere quel coso Non ce la farò mai Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Aiuto Incredibile Un po' come prendo il controllo Eh porca zazza Porca zazza Ah Bastidio porca Di quello E rifacciamo Tonto No Ammazzato Tu Il cane Tutte quanti Porca zazza Aiuto Ah Quivelo Sto pensando Ok Io ci provo Vediamo come andrà Sicuramente ho fatto una puttanata Vediamo Cosa Ok Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Aiuto Ok Aiuto 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 Sei Ok Invece è andata bene Ciao Coglione Coglione Non ce lo so Ora sei che ho fatto una puttanata Sì Che bello Eh vabbè Sì vabbè Certo Sì vabbè Sì vabbè Sì vabbè Sì vabbè Qui sotto il video Mi sono rotta il cazzo Di sto livello Di merdo E nulla ragazzi Nel prossimo episodio Finiremo questa parte Nulla Se avete piaciuto Pollicione in su Commentate Fatemi sapere Cosa ne pensate qui sotto E niente Vi voglio bene E ciao Ciao Oh yes No ma che oh yes Oh no Non lo so Orca troia Siamo nella merda